C'è posta per te, la famosa trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi Video, con grande attesa e tornata sul piccolo schermo della rete Mediaset in data sabato 13 gennaio 2018. Nel corso di questo primo appuntamento della nuova edizione, sono state molte le storie che hanno emozionato i telespettatori, tante quelle che sono state commentate sul web e sui social. E' proprio dal mondo virtuale che proviene un particolare appello dello stesso pubblico in merito a cosa e a chi, scopriamolo subito la trasmissione c'è posta per te continua a lasciare il segno stagione dopo stagione. A far particolarmente discutere è un ragazzo pugliese, Alessio, che è apparso nello studio Mediaset per accompagnare la sua compagna, Noemi, la quale è illite con la madre ormai da diversi anni. Gran parte dei telespettatori è rimasta affascinata dalla bellezza del ragazzo, un paio di belli occhi azzurri e i baffetti che lo rendono particolarmente attraente. E sul suo aspetto fisico che, sul web e sui social, si è aperto un dibattito il cui risultato finale è un importante appello a molte ragazze non dispiacerebbe rivedere Alessio sul piccolo schermo. Alessio ha c'è posta per te storia e appello del pubblico Alessio ha accompagnato la sua fidanzata, Noemi, invitata nello studio della trasmissione dalla madre, Antonella. Quest'ultima ha vissuto situazioni disagiate a causa di un tenore di vita che LH ha spinta a rifugiarsi nell'alcol. Questa sua dipendenza le ha fatto perdere ogni tipo di rapporto con le proprie figlie, le quali hanno deciso di allontanarsi da Antonella. Ad oggi, la signora chiede aiuto a Maria affinché possa riappacificare i legami con la sua famiglia Noemi ed Esther sono le figlie che, malgrado tutto, hanno deciso di aprire la busta e riconciliarsi con la madre. Non c'è nessuna speranza per Chiara, la quale invece non ha accettato l'invito nello studio Mediaset. Nel corso di questa complessa situazione, molti hanno ammirato la bellezza di Alessio e a tal proposito è emerso un appello pubblico sul web Vogliamo Alessio tronista video a uomini e donne video. E il seguente messaggio che si legge sui social Aldunque, Alessio ha conquistato il cuore di moltissime telespettatrici le quali sarebbero speranzose di rivedere il ragazzo nello studio di Maria De Filippi. Peccato, però, che a far sfumare questa possibilità vi sia un grande dettaglio Alessio, al momento, è fidanzato con Noemi, motivo per il quale era presente in studio nella puntata di C'è posta per te trasmessa ieri sera. Cosa ne pensate al riguardo? Vi piacerebbe rivedere Alessio in tv? Lasciamo a voi i commenti. C'è posta per te 13 gennaio 2019